Sì, non è un po' di rispettura, non è un po' di rispettura. Salute ragazzi, salute! Salute am! Salute am! Ciao! Ciao! Luca, il suo staff di... Luciano Finangeri, un nome per la garanzia. Stam, numero uno. Grazie. Stai bello, corri, va! Qui c'è Maria, una ragazza, immagina. Maria! Un saluto! Ciao! Peppe deve andare in camerino. C'è un buono, non è il sabore. C'è un buono, non è il bisogno! E' il bisogno! Non è il bisogno! Non è il bisogno! E' il bisogno di farlo! E' il bisogno di farlo! E' il bisogno di farlo! E' tutto là fuori! Perché non ci vedo qui! Carlo, ben ghièm! Facciamo un caldo, fa caldo! stiamo giudando è su, è su